Ha trovato finalmente conclusione la non usa vicenda sull'utilizzo della sede della CGL di Piazza della Vittoria a Cosenza. Una questione infinita che ha visto per anni contrapposti sindacato e regione su cui l'accordo raggiunto e presentato nella sede del sindacato ha messo la parola fine. Succede che ha vinto la ragione e il buonsenso. Da parte nostra e anche da parte dell'assessore Mancini a cui innendo esprimere il mio ringraziamento e anche lo sforzo che ha fatto a venire incontro a quelle che sono le esigenze della CGL senza mortificare le esigenze della regione. E' stato un lavoro che ha passato anche momenti di conflitti, poi ci si è intesi e nel rispetto dei propri ruoli, chi difende gli interessi pubblici della regione. E considerando anche il fatto che la CGL di Cosenza è un patrimonio culturale e quindi anche un valore democratico per questa città, si è trovata una strada di mediazione per cui una parte dello stabile ritorna in possesso della regione. La parte superiore viene concessa con un regolare fitto alla CGL che potrà continuare ad avere la sua presenza in questo palazzo storico che è stato appunto di riferimento di tanti lavoratori, di tanti pensionati, di tanti lavoratrici, giovani, di democratici che si sono battuti per il progresso sociale in questa città. Una soluzione ragionevole dunque riuscita a mettere d'accordo tutti grazie alla volontà delle parti di interloquire. Oggi scriviamo una pagina di buoni rapporti politici e istituzionali. Spesso la CGL si trova su posizioni differenti, a volte anche ingiustamente critiche nei confronti della regione Calabria. E però, ciò nonostante, noi abbiamo avuto la capacità di sederci allo stesso tavolo e di chiudere una vicenda scabbrosa che si portava avanti ormai da troppo tempo. E quindi abbiamo riconosciuto la possibilità a questa importante organizzazione sindacale di continuare ad occupare una parte di questo storico immobile nel centro della città di Cosenza a fronte del pagamento di un canone mensile e dall'altro ritorniamo in possesso dell'altra parte di questo immobile che è nostra intenzione poi utilizzare in prospettiva per adibirlo ad uffici pubblici.